In compagnia dell'avvocato Lanocita, vicepresidente del conservatorio di Salerno, quanto è importante questa convenzione che oggi si viene a porre in essere con l'Università degli Studi di Salerno? Beh, è fondamentale ed importante, primo perché si apre uno spazio per l'attività sportiva e tutte le attività collaterali che il CUS organizza magnificamente qui a Salerno. Il CUS è diventato un elemento di livello nazionale, internazionale, quindi, come dire, nella internazionalizzazione ci mettiamo insieme. Quindi questo è importante, è importante anche perché la pratica sportiva è fondamentale per i musicisti. L'attività, il momento fisico anche dell'utilizzo di uno strumento, di una batteria, di una percussione, di un pianoforte è fondamentale. Quindi anche da questo punto di vista. Terza questione, oramai siamo varificati all'Università come conservatorio nel panorama nazionale degli studi, quindi è un passo fondamentale. Rinnoviamo un rapporto molto positivo con l'Università che cominciamo circa sette anni fa con l'Erasmus. Adesso ci siamo diventati autonomi, però grazie all'Università che ci ha dato l'impronta, l'avvio con il suo ufficio che all'epoca funzionava magnificamente. Questo è il quadro, spero che in questo quadro anche la televisione dell'Università ci darà una mano e ci darà, come dire, dentro le iniziative che va ad assumere, mettendoci così anche in circuito in determinate aree dove noi non arriviamo. E quindi grazie anche a voi per l'attenzione che ci state dando. In compagnia dell'Avvocato Lentini, Presidente del CUS Salerno, siamo oggi al Conservatorio di Salerno proprio per questa convenzione tra il Conservatorio e il CUS. Ma è una convenzione importante che è tra il Conservatorio e di fatto l'Università attraverso lo sport. cioè sport e musica, sostanzialmente due aspetti importanti e rilevanti, soprattutto per i giovani, si fondono in un unicum e noi mettiamo a disposizione gli ambienti sportivi dell'Università anche a tutti gli studenti del Conservatorio e speriamo che da questo primo momento di contatto nasca poi un ragionamento più profondo per questi giovani, per le loro occupazioni e per tutta la loro attività anche in contatto con la didattica, la ricerca e perché no, lo sport come momento unico, aggregante. Buongiorno del Rettore Aurelio Tomasetti, oggi al Conservatorio di Salerno. L'Università di Salerno continua ad allargare i suoi orizzonti, oggi lo fa con una convenzione tra il CUS e il Conservatorio di Salerno. Sì, noi abbiamo coltivato in questi anni la cultura dello sport all'interno dei nostri campus. Siamo stati gelosi della crescita del CUS all'interno delle nostre strutture. Oggi però il CUS è cresciuto molto, se è vero come è vero che conta migliaia di iscritti, è una media di iscritti che è superiore alla media nazionale, a testimonianza che lo sport per la nostra Università è un momento di aggregazione fondamentale. È cresciuta e offre questo giacimento di esperienze, di competenze, di professionalità in un corretto dialogo istituzionale al Conservatorio. È un'iniziativa che a noi piace perché rispetta il nostro modo di vedere le cose, cioè il dialogo tra le istituzioni, perché arruola ulteriormente e potenzialmente altri 1.300 iscritti del Conservatorio al CUS e quindi insieme al nostro esercito e loro noi possiamo veramente ancora di più qualificare l'offerta dello sport per i nostri studenti, anche non solo nei nostri campus, ma anche immaginando le iniziative nella città Cavoluca, a partire dallo sfruttamento di quella risorsa che è il mare.